L'irruzione degli agenti della squadra mobile in un appartamento di Riovivo a Termoli blocca le attività illegali di spaccio e consumo di stupefacenti. C'è forte attesa per il futuro del punto nascita all'ospedale Santimoteo. I comitati cittadini restano in vigili sulle decisioni del Consiglio di Stato da Roma. Seconda e ultima giornata a Capobasso sugli approfondimenti dell'Ateneo sui temi delle cittadinanze e i diritti nell'ambito del Festival delle Scienze Politiche. Nulla da fare per il vasto Girardi allo Zaccheria di Foggia per la Coppa Italia di Serie D. I rossoneri si impongono 3 a 1. Domenica torna il campionato interregionale. Ben trovati gentili telespettatori, spazio alla cronaca in avvio di telegiornale. Il 58enne commerciante Isi Arnino Carmine Abrozzino si è spento dopo quasi un mese di agonia all'ospedale Santo Spirito di Pescara dove era stato ricoverato per un grave incidente della strada nelle vicinanze del bivio per Pettoranello sulla Statale 17. In un primo momento l'uomo era stato accompagnato al Veneziale di Isernia ma per la gravità dei traumi riportati era stato trasferito d'urgenza in Abruzzo. Bloccata dagli uomini del commissariato di Termoli, una centrale dello spaccio in un appartamento di Riovivo. Per un pregiudicato si sono spalancate le porte del penitenziario di Larino. Vediamo. Nascondevano droghe, scatole per tè e le caramelle ma sono stati scoperti dagli agenti della squadra mobile accaduto in un appartamento di Riovivo a Termoli di proprietà di un pregiudicato del posto. Il via vai di tossicodipendenti ha insospettato le forze dell'ordine. Una volta fatto eruzione gli agenti hanno scoperto diverse dosi di acisce e marijuana in possesso di due giovani acquirenti identificati e denunciati dalle forze dell'ordine. Nel corso della perquisizione nell'appartamento, il personale della squadra mobile ha poi rinvenuto altri 31 grammi di marijuana, 10 di eroina, un bilancino di precisione, circa 1.500 euro in banconote. Contenuti in un marsupio indossato dal pregiudicato al termine dell'operazione antidroga, l'uomo è stato poi arrestato e condotto in carcere a Larino per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La Guardia di Finanza del Comando di Capobasso ha sequestrato in un comune dell'entroterra un'autofficina abusiva. Il titolare è risultato sprovvisto delle autorizzazioni commerciali ed amministrative. Nel corso dei rilievi svolti sono stati rinvenuti punti, carrelli, pezzi di ricambio e utensili all'interno di un capannone adibito ad officina, posti sotto sequestro in quanto utilizzati per compiere illegalmente l'attività. Punto nascite all'ospedale Santimoteo di Termoli. Dopo l'udienza al Consiglio di Stato nella capitale si attende il verdetto dei giudici. Il futuro della sanità pubblica nel basso Molise è appesto ad un filo. Non accenna a placarsi la polemica riguardo il futuro della sanità molisana. Tra problemi di fondi e piano di rientro le cose sembrano non andare per il meglio. In questi giorni sulla cresta dell'onda il futuro del reparto di senologia di Sernia e le novità per quanto riguarda il punto nascita a Termoli. Proprio in queste ore infatti c'è attesa per la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla struttura contro la decisione del Termolise che a luglio scorso aveva disposto la sospensione del decreto del commissario ad acta che aveva posto la chiusura del punto nascita. A Disernia invece ieri fumata nera dall'ASREM all'incontro salva reparto tra azienda sanitaria e personale medico pentro e comitato in seno al problema. Arrabbia da parte di alcune rappresentanze politiche. La consigliera regionale Filomena Calenda insorge riguardo a questa questione. A farsi sentire anche l'onorevole Annelza Taltaione che interviene sul caso con un'interrogazione al Ministro della Salute nella quale chiede anche lo stop ai tagli della sanità molisana esprimendo preoccupazione per lo smantellamento di sonologia a Disernia. E restiamo ancora a Termoli. Domani ci sarà la conferenza di servizi propedeutica al progetto definitivo del raddoppio ferroviario dal Molise fino all'Esina sulla direttrice adriatica. Il comitato cittadini in rete ribadisce la necessità del raddoppio della tratta ferroviaria con la copertura dei binari per il tratto termolese. Tecnologie alternative sulla costa delocalizzazione della sottostazione elettrica del quartiere crocifisso. Il comitato invece contrario alle barriere antirumore alte fino a 7 metri e mezzo per una lunghezza di 10 chilometri. Si è parlato anche oggi di cittadinanza, autonomia e regioni in occasione del Festival delle Scienze Politiche. A Campobasso, relatori nella prima giornata, il professor Gianfranco Biesti. Quando si parla di cittadinanza si pensa alla partecipazione attiva delle persone, all'azione civica ma non solo. Inevitabilmente si guarda ai diritti di cui ciascun cittadino gode nelle singole regioni e che potrebbero essere diversi da nord a sud. Se passa una forma di autonomia regionale differenziata molto forte come quella voluta dalla Lega, i diritti di cittadinanza degli italiani diventano molto diversi a seconda della regione di residenza. Adesso è cambiato il governo, vediamo, ma il tema è molto trasversale. Quindi bisogna seguirlo con attenzione. Purtroppo i cittadini non ne sanno assolutamente niente perché non sembra un tema tecnico, amministrativo. Invece è un grande problema politico che riguarda che cosa significa essere italiani, quali sono i diritti che hai, indipendentemente da dove vivi. Ma qual è la strada giusta da percorrere per garantire uguali diritti a tutti i cittadini? La strada giusta è innanzitutto mettere al regime i meccanismi di finanziamento ordinari delle regioni, mantenere certamente l'unitarietà della scuola statale e ripensare un attimo al finanziamento della sanità e ai meccanismi di funzionamento della sanità perché lì si è creata una differenza molto forte. Non c'è bisogno di rendere alcune regioni più speciali degli altri, anzi bisognerebbe fare una riflessione sulle attuali regioni in struttura speciale, soprattutto quelle alpine, che godono di privilegi del tutto ingiustificati secondo me. 150 città italiane sono state scelte domani mattina per lo sciopero globale del clima. Tra queste le piazze principali di Campobasso e Termoli, un'occasione particolare per i giovani di chiedere ai governi nazionali di cambiare le politiche ambientali e scongiurare un punto di non ritorno sul cambiamento climatico, oltre gli studenti e le associazioni ambientaliste, a dare supporto anche agli esponenti politici del Partito Democratico. Il castello Svevo, simbolo della città di Termoli, attende opere urgenti per il restauro del maniero di epoca medievale. Vediamo. Alla fine dell'XI secolo, con la conquista normanna delle coste adriatiche, il conte Roberto di Lorointello stabilì la sua residenza a Termoli in un palazzo fortificato posto vicino al mare, per gli storici potrebbe trattarsi del primo nucleo dell'attuale castello comunemente definito Svevo, probabilmente a causa della ristrutturazione della metà del 1200 che Federico II di Svevia vi fece apportare all'indomani della distruzione delle difese esistenti da parte della flotta veneziana. Per la risistemazione conservativa del castello Svevo, l'amministrazione comunale di Termoli oggi è in attesa del parere favorevole da parte della soprintendenza alle belle arti. Il restauro prevede il ripristino delle mura perimetrali esterne, consolidamento dei giunti e opere di impermeabilizzazione dei terrazzi. Un milione e mezzo di euro la spesa prevista per ridare l'antico splendore alla fortezza, simbolo della città sul mare e adriatico. Il progetto esecutivo è pronto nelle stanze di Palazzo Sant'Antonio in attesa degli sviluppi. Nel corso dei secoli il castello ha subito varie modifiche, soprattutto per l'adozione delle armi da fuoco. Il maniero fu adibito anche a carcere dai borboni di Napoli. Nei primi decenni del secolo scorso furono realizzati lavori di consolidamento sia alle mura che ai bastioni. Dal 1885 il castello di Termoli è stato annoverato tra i monumenti di interesse nazionale. Grazie a Moda Impresa il settore tessile molisano dopo 11 anni torna al Milano Fashion Show. Oggi Moda Impresa disegna e produce linee di prestigio nel campo dell'abbigliamento. L'azienda da un fatturato di 250 mila euro nel 2016 è passata a 2 milioni e mezzo nel 2019 con proiezioni a 5 milioni di euro per il 2020. Domattina di Sernia la presentazione degli ultimi bilanci. E sempre di Sernia continua la polemica riguardo ai parcheggi a pagamento. Il comitato Nostrisce Blu ha predisposto per domani sera al dopolavoro ferroviario una nuova assemblea per preparare una manifestazione pubblica. Lo studio epidemiologico nato dall'intesa del comune di Benafro con l'azienda sanitaria farà luce sullo stato di salute di coloro i quali risiedono nella piana al confine della regione. Vediamo. Adesso ci siamo. Probabilmente riusciamo a studiare il territorio, quello che succede e dare delle risposte. Sì, lo scopo di questo studio è proprio questo. Uscire dal cono di preoccupazioni delle volte basate magari su convinzioni non scientificamente provate e cercare di dare delle risposte scientifiche mettendo in correlazione gli indici di mortalità e di morbosità con quelli che possono essere i fattori inquinanti. Capire quindi quali possono essere le cause di una serie di patologie invalidanti o in qualche caso purtroppo mortali che si verificano nella piana di Benafro. È una giornata importante quella di oggi perché a questo studio arriviamo partendo da un'istanza dei cittadini e delle associazioni dei cittadini, in particolare l'associazione delle mamme per la salute e per l'ambiente, ma partendo da queste istanze tutte le istituzioni, regione, ASREM, comuni, si fanno carico di un problema e cercano di dare una risposta adeguata, scientificamente fondata. Ecco, questa è la grande svolta di questo momento, le istituzioni che si fanno responsabilmente carico di quella che è una tematica che allarma sempre di più cittadini. Tutto questo deve essere coniugato con la tutela della salute nel territorio, quindi una sanità che sia adeguata a tutta l'area. Beh certo, ormai da tempo, noi in particolare nella zona di Benafro mettiamo in correlazione diritto alla salute e ambiente. Cerchiamo per quello che possiamo di lavorare con questo studio sulla tutela ambientale e sulla prevenzione dei rischi ambientali. Sappiamo tutti che siamo impegnati da anni però anche sul tema del diritto alla salute, un diritto sempre più vilipeso, sempre più mortificato, in particolare proprio in un territorio come quello della Piana di Benafro che è stato defraudato negli anni, depredato se vogliamo da un punto di vista delle strutture sanitarie. Ancora oggi il tema c'è, questo avvicendamento continuo anche di commissariamenti, queste incertezze legate a tavoli tecnici non fanno che far male alla tranquillità dei cittadini, di sapere di potersi curare laddove si dovessero trovare in un momento di difficoltà da un punto di vista della salute. Commenta positivamente l'avvio dello studio epidemiologico della Piana di Benafro anche la parlamentare Rosa Alba Testamento. Accolgo con soddisfazione la notizia del coinvolgimento dell'Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa e spero che la sua partecipazione sia piena avendo già condotto lo studio preliminare in cui per la prima volta vennero rilevati eccessi di mortalità significativi nei comuni della Piana Benafrana. E ancora a Benafro si discuterà domani pomeriggio della variante stradale della frazione di Cepagna, una infrastruttura attesa da anni per aggirare il traffico del centro cittadino. Incontro promosso dalla filea CGL alla Palazzina Liberty. Quest'anno la campagna nazionale di controlli gratuiti dell'udito, denominata Non Ascoltami, toccherà le piazze di Termoli e Campopasso. Si parte domenica 29. Il 29 settembre in piazza a Termoli e il 6 ottobre in piazza Vittorio Emanuele a Campopasso sono queste le due tappe molisane della decima edizione di Nonno Ascoltami, la campagna nazionale di prevenzione contro i disturbi uditivi che coinvolgerà 38 città e 15 regioni italiane. Obiettivo della iniziativa che prenderà il via il prossimo 22 settembre, la divulgazione e la sensibilizzazione contro i disturbi uditivi. Così come ogni anno, fino ad ottobre, gli ospedali delle principali località del Paese scenderanno in piazza con i propri medici e specialisti che, insieme a tecnici dell'udito, per un'intera giornata incontreranno i cittadini all'interno dei presidi medici avanzati messi a disposizione da Croce Rossa e Misericordia. In ciascuna postazione saranno effettuate attività di prevenzione e informazione sui corretti stili di vita da adottare per conservare la salute dell'udito. L'evento gode del patrocinio del Ministero della Salute e del sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nonno Ascoltami coinvolge un bacino di utenza di circa 10 milioni di cittadini in tutta Italia, offrendo l'opportunità di effettuare i controlli gratuiti dell'udito grazie all'impegno di diversi partner nazionali e locali. Il Ministero della Difesa ha concesso al Comune di Frosolone la medaglia commemorativa della Prima Guerra Mondiale. La cerimonia ufficiale si è svolta oggi in paese, nella chiesa di San Pietro Apostolo, a seguire la deposizione di una corona dall'oro ai piedi del monumento ai caduti. Cambiamo argomento, l'attività sportiva come strumento di prevenzione per la salute per bambini e adulti. Se ne parla questa sera, dopo le ore 21, a Focus, il nostro programma settimanale di approfondimento. Ospiti in studio, il pediatra Sergio Zarribi e il dottor Costantino Simonelli. Il movimento, voi l'avete citato in qualche passaggio, ma il movimento diventa indispensabile, no? Intentando il movimento un po' tutto, nel senso quello strutturato che i ragazzi fanno in palestra, in piscina, insomma dovunque, qualsiasi attività sportiva scelgano, ma anche quello non strutturato, nel senso uscire e fare una passeggiata, accompagnare un genitore a fare la spesa, evitare qualche volta l'ascensore e così giocare sotto casa, sono tutte occasioni appunto di movimento. Teniamo anche presente che in Italia, e questi sono dati che ci dà l'Istat, lo sport lo fanno i bambini, è un po' crescendo fino ai 10 anni d'età. Nell'età preadolescenziale la situazione si mantiene più o meno stabile, dopo il che c'è un crollo verticale che riguarda soprattutto le ragazze, 8-9 punti di percentuale si capi, quindi l'attività sportiva poi viene praticamente abbandonata. E anche qui c'è un gradiente nord-sud abbastanza preoccupante, nel senso che quelli più pigri, sono un po' quelli del sud, nel senso che un bambino su quattro in Italia non fa sport, è un sedentario, però nel sud si arriva al 40%, quindi è quasi uno su due. E per quanto riguarda invece quelli attivi, abbiamo una percentuale che arriva al 60%, però nel centro nord 20 punti di meno nel centro sud. Quindi anche in questo caso l'aiuto, il consiglio va dato, perché muoversi significa anche evitare conseguenze, magari il tutto associato ad una cattiva alimentazione può portare a rischi per la salute. Negli adulti io vedo da un po' di anni, forse anche un po' pompato, un risveglio dell'attività fisica, molte palestre, il concetto del fitness, del benessere fisico, ma più estetico, che è proprio salutare spesso, per cui poi c'è gente che non ha misura in questo senso qui. Comunque c'è, fondamentalmente c'è, però c'è, come diceva lui, c'è però una grassa fetta di soggetti insensibili a questa cosa qui. E poi complessivamente il moto non è quello necessariamente della palestra o di quello che fa footing tre o quattro volte alla settimana. A volte sono piccole abitudini che vanno prese e altre abbandonate. C'è qualcuno che dice che già riesce a mantenere il tuo peso se ti fai un cane, per esempio, o se impari a fare le scale tutti i giorni. La nuova sfida di Castel del Giudice, la cooperativa della Mela, apre le porte anche a un birrificio agricolo, una piccola azienda di agricolturi che vuole diversificare iniziando a produrre birra. Un modello imprenditoriale che sta sfidando lo spopolamento dell'Alto Molise, offrendo occupazione ai giovani del posto. Il nuovo logo del birrificio verrà presentato il 13 ottobre a Castel del Giudice nel corso della festa della Mela. E adesso, come ogni giorno, spazio al meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Per vederci chiaro, ottica desiato, in via Estonia 41A a San Salvo, in via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Parzialmente coperto nelle zone interne e dalla sera. Le temperature sono comprese tra i 17 gradi di Campobasso e la massima di 25 gradi a Disernia. Ventilazione da nord-est, calmo il medio adriatico. Sulla regione domattina ampi spazi di sereno nel cielo. Valori climatici stazionari, venti di direzione variabile. A Capobasso il vecchio stadio Romagnoli, in pieno centro cittadino, diventerà un parco urbano con aree dedicate a diverse discipline sportive. La manifestazione, denominata Urban Sport Day, è prevista nelle giornate di sabato e domenica. Trenta duesimi di Coppa Italia Amari per il vasto Girardi, impegnato nella difficile trasferta di Foggia. Padroni di casa si sono imposti con il risultato di 3 a 1. L'avventura nella Coppa Italia di Serie D per il vasto Girardi si ferma ai 32esimi di finale, travolti per 3 a 1 dai padroni di casa del Foggia. I rossoneri si lanciano subito all'assalto, rilegando gli uomini di Mister Farina nella loro metà campo ad incassare uomini. La strana resistenza dei molisani allo zaccheria dura 11 minuti, quando un rimpallo al limite dell'area di rigore favorisce l'inserimento di Gentile, che, senza farselo ripetere due volte, firma l'1 a 0 del Foggia. Appena tre minuti più tardi, un calcio di punizione dei pugliesi diventa fatale. Campagna apre per Gentile, che prolunga verso Salines, pronto ad insaccare il 2 a 0. A metà del primo tempo si riaccendono le speranze dei giallo-azzurri, con il classico gol dell'ex. Il portiere rosso-nero calcola male i tempi, consentendo a Chiarema Teng di andare in rete. Il secondo tempo, tuttavia, spegne definitivamente i sogni del vasto Girardi, quando Iada Resta raccoglie un cross dalla sinistra e realizza il 3 a 1. I molisani salutano così la Coppa e si rituffano nel campionato, che li vedrà impegnati domenica in casa del Tolentino. Chiudiamo con il calcio a 5. I quintetti molisani, Cus Molise e Chaminade sono stati inseriti dalla Lega nel girone L del campionato nazionale. Under 19-10, i club abruzzesi, Acqua e Sapone, Pescara, Real Dem, Ortona, Popoli, L'Aquila, Città di Chieti, Celano, Vasto e Orione, Avezzano. Il torneo partirà domenica 6 ottobre, mentre mercoledì 9 ci sarà il via alla Coppa Italia Under 19. Con questa notizia è proprio tutto. Grazie per essere rimasti con noi. Arrivederci. Grazie per essere rimasti con noi.